Sì, signori miei, sì, in notturna, in notturna per parlare del primo acquisto in casa Inter, praticamente ufficiale, possiamo considerarlo tale, l'affare Mkhitaryan, il giocatore che ha detto noi, tra oggi, ieri, se preferite, sì, ormai ieri, all'ultima offerta giallorossa, un'offerta anche se, mi permettete, relativamente importante, perché subito la prima cosa che ci tengo a dire non è vero, come sento dire un po' facilmente ed erroneamente in giro, che la squadra, il club giallorosso l'ha lasciata andare così a correggere, o no, gli aveva proposto anche un contratto, come ho già detto relativamente importante, ma dei cavilli contrattuali ne parliamo, andiamo sui dettagli, andiamo anche sulle qualità del giocatore, che da tanti per analizzarlo hanno un solo aggettivo, vecchio, vecchio, non c'è altro secondo alcuni, non c'è, è vecchio, punto, ma è giocatore o vecchio, stop, non mi interessa in realtà, noi dobbiamo, dobbiamo parlare anche, anche di altro, senza ombra di dubbio, quando parliamo dell'armeno Mkhitaryan, partiamo? Eh sì, è bisogno, è bisogno partire, prima però come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui vari video, perché con l'arrivo del Natale, pensavo all'arrivo dell'estate, con l'estate alla porta appunto i video all'1, 2, 3, 4 di notte sono possibili, quindi aspettatevi di tutto, motivo per il quale iscrivetevi e attivate la campanella, che già non arriva la notifica di giorno, figuriamoci di notte, però attivate, 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 tanto non guasta, vi piace questa maglia che ho sfoggiato? Vi piace o no? Allora passate in descrizione, passate in descrizione che vi mostro tanta 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 roba, mi raccomando, detto, no sotto nei commenti, primo commento passateci che vi faccio vedere tante tante robe divertenti. Detto questo, detto questo, parliamo innanzitutto dell'affare ragazzi, e quando parlavo del contratto che gli aveva proposto la Roma, parliamo di un contratto di 3,6 milioni più bonus facili da raggiungere che lievitavano il tutto a 4,2 milioni. 4,2 milioni una stagione, ma attenzione perché c'era anche l'opzione per il secondo anno alle stesse cifre, alle stesse condizioni al raggiungimento del 50% delle partite disputate. Però Mkhitaryan ha detto, quindi attenzione, attenzione, potenzialmente parlavamo di un biennale da 4,2 milioni a stagione anche alla Roma. Quindi quello della Roma non era di certo, non era di certo un'offerta di poco conto, anche perché alla Roma sanno il valore del giocatore, sanno soprattutto con Fonseca quelle che sono state le qualità massime espresse, con Mu la prima parte di stagione non è stata di certo ottima, anche perché l'aveva rilegata un po' sulla fascia, appena tornato di nuovo al centro del centrocampo la musica e era di nuovo cambiata. Infatti Mkhitaryan praticamente nel finale e nella seconda parte di stagione le ha giocate tutte, anche perché è un valore di certo aggiunto, senza ombra di dubbio. Per concludere la parte contrattuale, l'Inter invece gli offre un biennale da 4,5 milioni a stagione, che non è roba da poco conto, è sicuramente 4,5 milioni a stagione. Un biennale non è roba di poco, ma non è neanche una roba folle. Ricordiamoci che all'Inter siamo stati capaci di dare, grazie al signor Conte, 7-7 milioni e mezza stagione a un certo Vidal, il quale sembrerebbe che finalmente forse riusciamo a rescindere, vedremo quello che succederà. Però, questo per dirvi che alla fine, per un giocatore che arriva a zero, mi sembra che ci sia poco, come ho già detto, ci sia poco da stare lì a di mamma mia, ma sicuro, ma non è che stiamo a fare una cavolata. Ecco, di certo, di certo secondo me c'è stato molto, ma molto di peggio in passato. Per concludere, Mkhitaryan aveva, come ci dice Pedoula, aveva trascorso qualche giorno di relax lontano dall'Italia, ora possono essere organizzate le visite mesi, di che non ci sono sorprese, è tutto fatto, pare che abbia parlato anche con lo stesso Inzaghi e che può essere utilizzato in un paio di ruoli. In realtà io non la vedo così, nel senso non voglio contraddì Pedoula, però io credo che lui debba giocare nel 3-5-2, che poi non è che ci sia, ma possa giocare mezza alla sinistra o mezza alla destra. È vero, può fare anche in una sorta di 3-5-1-1, come abbiamo visto Fassenzi nella prima parte di campionato, potrebbe fare quindi una specie di sottopunta, visto che Mkhitaryan nasce anche un po' trequartista, no? Lui, mezzala trequarti, questa è la sua zona di massima competenza, ma in realtà il ruolo che più gli si addice è quello di mezzala. Senza se e senza ma, una mezzala tipica, come lo è stato Luis Alberto alla Lazio e come lo è stato Cialanovo, che parte da trequartista al Milan, ma che appunto fa la mezzala all'Inter. È quello il suo ruolo, senza andare, secondo me, poi troppo oltre. E rispondo al discorso vecchio, di certo non è giovane, ahimè, ahimè purtroppo no, e ahimè aggiungo, non ce li possiamo permettere proprio in Italia, gli giovani, cioè giovani con quel talento, no? Un Mkhitaryan che avrebbe 20 anni, noi in Italia non ce lo possiamo permettere, che ti chiami Inter, che ti chiami Milan, che ti chiami Poggi Bons, non ce lo possiamo, ahimè, permettere. Quindi questa retorica del giovane non sta. Infatti la Juventus prenderà Di Maria, purtroppo non lo prende a 20 anni, purtroppo lo prende a 34. E dico purtroppo, perché nonostante parliamo dei rivali, però parliamo di un campionato che è povero, lo dirò all'infinito, che è povero, ragazzi. Quindi abituiamoci a questi colpi, abituiamoci a questo. Non voglio dire che ci dobbiamo accontentare, però siamo lì, ragazzi, perché se noi ci accontentiamo ad oggi, eh, ci abbiamo poco da guardare il nostro campionato. Poi, spero sempre di essere smentito, spero sempre di sbagliarmi, ma è da qualche anno a questa parte che quello che continuo a dire mi sembra che non è che ci stia andando sempre troppo lontano, no? Mi pare, mi pare proprio di no. Ma detto, detto questo, è vero. Non è un giocatore già, è un giocatore che aggiunge. Cioè, un giocatore che, sento di, viene a fare il vice al Cialanoglu. E questa mi sembra una di quelle boiate clamorose. A parte che i due non si possono neanche confrontare, ma quello che ho visto fare Mkhitary alla Roma, a Cialanoglu non l'ho mai visto fare. Con tutto il rispetto che ho per Cialanoglu, con tutto il rispetto per la stagione anche che ha fatto, ci sono stati altri, ci sono stati i bassi, ma le qualità tecniche di Mkhitaryan sono un'altra roba. Andate a vedere un paio, due anni fa, quando parlavo della Roma di Fonseca, non c'era un video in cui non si menzionavano le giocate di Mkhitaryan. Andate a vedere, non è che mi devo inventare qualcosa o debba esaltarlo oggi perché arriva all'Inter. No. Mkhitaryan nella Roma di Fonseca era un punto fermo, era forse il giocatore anche più importante della Roma stessa, almeno per rendimento. Perché praticamente le aveva giocate quasi tutte le partite ed erano tutte su un livello medio-alto. Come ho già detto, nella Roma di Mourinho è partito molto male, come tutta la Roma. Perché poi tante critiche le abbiamo fatte a Mourinho nella stagione, nella prima parte soprattutto. Poi Mkhitaryan è ritornato centrale, ripeto, anche proprio per disposizioni tattiche e la Roma è tornata a girare anche in maniera diversa, perché dal punto di vista tecnico il giocatore Mkhitaryan non si può ragazzi discutere. E non lo discuto anche dal punto di vista fisico, perché in tanti dicono no ma ha 33 anni, a generale sono 34, è vecchio ed è anche rotto. No. L'unico infortuna l'ha avuto nella parte finale di stagione. Stiamo parlando di un giocatore integro, stiamo parlando di un giocatore che gioca sempre, è sempre disponibile, ripeto. Solo nell'ultima parte ha avuto un infortunio e per il resto è un giocatore che alla Roma ha fatto bene e ripeto, ne parlano bene la propria gente, i romani, i romanisti, ne parlano bene del giocatore. Tutti a complimentarsi con lui per la professionalità, per quello che ha dato alla Roma e tutti hanno speso parole positive per l'Armeno. Credo che un endorsement migliore non potesse arrivare, per cui ripeto, di certo non è un acquisto low cost come vogliono farlo passare, perché comunque si parla di un ingaggio abbastanza importante però è un giocatore che arriva a zero e non starei qui a fare lo schizzeroso, anche perché, come ho già detto, è un giocatore che aggiunge, è un giocatore che porta qualcosa di diverso ed è un giocatore che, secondo me, gioca titolare l'anno prossimo. Se sta bene lui e sta bene Cialanoglu, per come la vedo io, gioca a Mkhitaryan, ragazzi. Per me gioca lui, per me gioca lui, per quello che gli ho visto fare e per quello che sa fare il giocatore. Poi vedremo quella che sarà la resa, la condizione e ne discutiamo e ne parliamo. Però, ripeto, sicuramente non è un giovanotto, il dispiace, però è un giocatore che a me piace, è un giocatore che gli ho visto fare cose importanti alla Roma ed è un giocatore che all'Inter sicuramente aggiunge, perché, levato appunto i primi tre e il centrocampo titolare dell'anno scorso, è una boccata d'ossigeno avere un giocatore del genere. Di sicuro hai una scelta, una chance in più, un giocatore che ti dà qualcosa di diverso. Non voglio ripetermi, è questo. E vi invito, appunto, a fa' che? Che vi voglio invitare? Vi do la buonanotte, vi sto riettando, un grande abbraccio da Neschio e buonanotte a tutti, dai. Fatemi sapere cosa ne pensate voi dell'Armeno.